Musica Ancora un buongiorno da Telefriuli, bentrovati a questo appuntamento in diretta con a voi la linea. Sono sempre più le persone che decidono di andare in Slovenia per fare il pieno con la differenza di prezzo che ha toccato i 60 centesimi al litro sia per la benzina che per il diesel e al confine di Mernico e molti approfittano anche per risparmiare sulla carne. Siamo sullo confine tra Italia e Slovenia a circa 400 metri dal distributore di benzina di Mernico Colobrida. Qui le persone sono in coda anche per un'ora e mezza per fare il pieno di carburante. Qui in Slovenia si risparmia in questi giorni circa 60 centesimi al litro sia sulla benzina che sul diesel e in molti casi si approfitta anche per comprare la carne come negli anni 90. Lei da dove viene? Da Udine, San Gottardo. Da San Gottardo fino a Mernico per fare benzina perché conviene? Conviene sì, sono 50 centesimi di Firenze abbiamo visto. Tu vieni da lontanissimo, addirittura dal Veneto. Sì, buongiorno a tutti, da vicino a Portogruaro. Fino a qui per fare benzina? Sì, avevo anche degli impegni personali però purtroppo ho detto faccio il pieno e invece mi sono ritrovato una coda che sinceramente non mi aspettavo. Lei legge addirittura un libro per ingannare l'attesa? Esatto, visto che ci vorrà un'ora più o meno per arrivare al distributore. Direi qui almeno per una mezz'oretta credo ancora. In attesa di fare benzina mi sono portata a studiare per non perdere troppo tempo. Per passare un po' di tempo mentre si è in fila per fare benzina non ci si sottrade un'intervista. Bisogna fare qualcosa, sì. Siamo in coda da 40 minuti. La fila va avanti molto lentamente ma adesso ci siamo quasi. Sì, dai, non ci scoraggiamo. Per lo meno si vede l'insegna del distributore là lontano, lontano. Dai, ma stiamo chiacchierando, ci divertiamo. Sono andata prima a Venco ma c'era una fila astronomica, sono tornata indietro e è venuta qua. E qui ci sarà ancora sicuramente per un'oretta penso. Abbiamo messo in fila le 8.35, 8.30 la via. Un'ora e mezza di coda circa. Un'ora e mezza di coda, esatto. Un'ora e mezza di coda. Tra l'altro comunque abbiamo perso più tempo perché hanno fatto riferimento di benzina qua. Quindi c'è stato anche il camion e quello ha rallentato anche i tempi. Vengo perché conviene. Come vai da civile non mi danno molta pensione. E sono costretta a venire a fare il pieno di benzina in Slovenia. Ci siamo accorti che è importante stare attenti all'economia della famiglia. Benzina o diesel, quanto ha speso? Benzina e abbiamo speso 55,91. Fatto pieno, chiaro e riserva nera, quindi buono. Su un pieno, quando uno fa un pieno comincia a risparmiare 20 euro. Quei 20 euro magari vai a mangiare la pizza. Viene qui solo per la benzina o anche per la carne? Generalmente vengo per la benzina, però occasionalmente anche per la carne perché è più conveniente. Sulla sigarette risparmierai quei 10, 12, 13 euro a stecca e sulla carne risparmierai sempre quei 10 euro al chilo perché qua c'è Rosby fa 12, in Italia anche a 30 euro. Avete tanta gente che si ferma qui a comprare la carne poco in là del confine? Sì, tanta, sempre di più. Sono cresciuti i prezzi anche qui ma resta comunque conveniente rispetto all'Italia? Quello sicuramente. E cosa comprano in particolare i vostri clienti? Civa, Rosby, filetto, pollo, questo va di più. Lei faceva la fila qui in Slovenia anche negli anni 80-90, ci racconti di quel periodo? Sì, anche prima. Venivo con la 500, io che non teneva niente il serbatoio, però si veniva perché già si risparmiava. E si riempiva il bagagliaio di carne? Eh, carne, burro, sì, quelle cose lì, sì. Sono tempi che stanno tornando? Purtroppo sì, purtroppo sì. 50 anni fa a Caporetto era la stessa cosa, non c'era ancora il distributore nuovo, addirittura quasi da stupizza c'era, alle 7 di mattina c'era già la coda sul vallico. Si ricorda bene di quei tempi? Eh, come? Mi ricordo benissimo, mi ricordo. Sa quante volte sono passato di qua per fare benzina? E non solo? E non solo, per prendere un po' di carne, per prendere qualche altra cosa. Gli anni 90, gli anni 89, 88, quando era tornato a aumentare la benzina, qui era a metà. Arriviamo a Udine, dove già è stato trovato in via Atimis, a qualche centinaio di metri dalla sua sede, è ripristinato il palo commemorativo intitolato a Norma Cossetto. Per evitare nuovi attivandali ci è stata aggiunta una piccola colata di cemento sul posto il sindaco Fontanini e l'assessore Ciani. Mi trovo in piazzale Norma Cossetto, il cartello che praticamente era stato sradicato è stato trovato qui vicino in via Atimis e questa mattina è stato riposizionato. Ne parliamo con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. È la seconda volta che qualcuno si accanisce nei confronti di questo cartello? Sì, è una cosa molto grave e noi siamo rimasti veramente colpiti da questo ulteriore atto di vandalismo. Per fortuna abbiamo ritrovato il cartello a circa 200 metri di distanza, oggi gli operai del Comune lo hanno riposizionato nel suo posto. Io non riesco a capire questo odio perché non penso che ci siano altre motivazioni nei confronti di questa persona che è morta, torturata, seviziata e qualcuno non vuole che questo luogo sia intitolato lei. È una cosa gravissima, ho sentito molte testimonianze di solidarietà nei confronti tra l'altro del Comune in questo caso che ha deciso di intitolare questo luogo a Norma Cossetto. Speriamo che sia l'ultima volta che qualcuno si accanisse. Noi in ogni caso prenderemo dei provvedimenti, non dico cosa ma si può intuire che quest'area sarà sorvegliata e quindi speriamo di identificare chi magari vorrà tornare a provocare una cosa del genere. Oggi abbiamo ripristinato e siamo stati molto rapidi, ringrazio i dipendenti del Comune che hanno agito con grandissima velocità per ripristinare questo cartello. Con noi anche l'assessore alla sicurezza Ciani. Ma effettivamente sul territorio sono già accaduti eventi, fenomeni di questo genere? Tra l'altro anche ripetuti nei confronti di uno stesso soggetto? Sì, purtroppo un paio di anni fa vicende analoghe sono accadute al Parco Martiri delle Foibe, quindi è evidente che si tratti di persone che vogliono negare una vicenda storica che ha riguardato anche le nostre terre e questo ovviamente rende il tutto ancora più grave. Si tratta di persone che negano vicende molto delicate, che invece non vanno negate ma vanno raccontate, su cui bisogna ancora oggi riflettere e parlare soprattutto ai più giovani di queste vicende. E' giusto però che il Comune non molli e che non si arrenda a personaggi di questo tipo. Sarà un giardino segreto da riscoprire, così il Sindaco Alessandro Ciriani ha presentato un nuovo parco urbano che sarà realizzato a Pordenone. Sindaco, oggi si presenta un'importante novità, un parco urbano in città. Di che cosa si tratta? Si tratta di un intervento molto importante di recupero di un'area degradata che abbruttiva la zona e che al contrario diventerà un grande giardino, un giardino nascosto e che invece adesso diventerà disponibile per tutti. Quindi no consumo di suolo, recupero di aree verdi, maggiore dignità e bellezza e qualità della vita di Pordenone. Investiremo 2 milioni e 400 mila euro in accordo anche con la regione. La tempistica significa aspettare per le attività di esproprio, la burocrazia tipicamente italiana, quest'estate. Quella è una zona un po' fatiscente e va anche rigenerata da questo punto di vista. Sì, non sarà l'unico intervento. Il nostro obiettivo è proprio quello di eliminare tutte quelle barriere fatte di case disabitate, di luoghi ormai decrepiti, di catapecchie, di posti abbandonati, abbattere per restituire suolo ad una città che ha conosciuto una fortissima cementificazione nel passato. Al contrario, dove è possibile, bisogna liberare questi spazi e mettere a disposizione la comunità. In questo caso significherà creare un parco urbano di circa 1.600 metri quadrati in una zona che non è centrale, ma che di fatto è una cintura di collegamento proprio con l'area centrale. Il piano regolatore prevede 4 grandi aree di rigenerazione urbana. Una è proprio quella che si trova tra Via Le Dante, Via Le Cossetti e Via Le Martelli. Questo ambito, che può essere sviluppato sia dai privati che dal pubblico, sarà interessato da un'acquisizione intanto di un'area che è già in buona parte verde e che andrà decostruita in modo tale da creare un nuovo ciclo di vita all'interno di un compendio, che è quello di Via Fratelli Bandiera, che è particolarmente degradato e che anche nei periodi di grande espansione nella città non ha visto mai un progetto di riqualificazione. E quindi, quando il privato è immobile per tanto tempo, per varie ragioni che possono accadere all'interno di una città, il comune e l'amministrazione possono sostituirsi al privato e cercare di sviluppare quell'ambito. Un po' come stiamo facendo con il parco tematico per l'energia, un luogo molto significativo che è quello dell'ex pastificio ottomani. E dal punto di vista ambientale un intervento importante per la città? Certamente, è importantissimo perché vale nella direzione di contrastare i cambiamenti climatici, di restituire suolo alla città, per cui non solo nell'ottica di non consumarne di più, ma addirittura di restituirne. È un progetto completo perché la demolizione non avverrà, secondo i canoni tradizionali, ma attraverso la decostruzione selettiva, ovvero con l'identificazione dei materiali, l'edificio smontato e questi mandati al riciclo. È un'operazione importante soprattutto di questi tempi in cui il costo dell'energia e sull'energia si fa molta attenzione. Sì, certamente, perché qui andiamo in un'eredizione, andiamo a incentivare non nuovi edifici, incentiviamo anche le persone a utilizzare sempre di più i propri piedi, perché metterà in collegamento varie strade che adesso tra di loro non sono accessibili, per cui meno inquinamento, più rispetto per la natura, molta biodiversità perché in questo caso verrà recuperata anche la roggia esistente che per fortuna non è tombinata, però è interrata. Si creerà all'interno del comune un'area dove prevarrà la biodiversità, collegata all'asilo anche, che è limitrofo, dove i bambini potranno anche imparare qualcosa di più ed essere a contatto veramente con un ambito naturale. Una piccola pausa, torniamo tra poco con la seconda parte di A Voi la linea. Noi ora ci colleghiamo con Marco Macorich, che sta raggiungendo per noi il confine con l'Ucraina, in questo momento si trova a Zahoy, in Ungheria, che è poco distante dal paese, in guerra. Buongiorno Francesca, siete collegati in diretta, in questo momento siamo sul confine tra l'Ungheria e l'Ucraina, siamo esattamente all'Help Center, qui si sono organizzati molto bene per poter ricevere il materiale e le persone, infatti questo Help Center è fuori la stazione ferroviaria, la stessa cosa l'avevamo vista anche stanotte arrivando su Budapest, lo vedrete nel servizio che abbiamo raccolto, donne, bambini e famiglie allargate, così definite, perché vedrete nel servizio come abbiano raccolto velocemente i loro bambini, una valigia e gli animali che avevano in casa, questo è quello che abbiamo registrato stanotte. Abbiamo appena effettuato una consegna di medicinali particolari, sentirete nei prossimi collegamenti anche ringraziamenti al sindaco della città e del reparto oncologico, abbiamo consegnato del materiale particolare. Qui la situazione si sta tranquillizzando dal punto di vista organizzativo, ma sono già transitate oltre 230 mila persone, in questo che è considerato un confine minore. Adesso vi lascio con il servizio che abbiamo registrato ieri pomeriggio con Friulano di Gemona e ci risentiamo nelle prossime ore. Grazie e mandi. Siamo a Budapest con Aita Flavio, un cognome così non poteva essere che Friulano, ci facciamo raccontare una storia dalla sua viva voce nella sua grande bottega in centro Budapest. Ben arrivati Marco, io sono Flavio Aita e ormai sono dal 92 qui a Budapest. Ho vissuto l'esperienza del terremoto e quindi tutta l'esperienza del volontariato. Ormai adesso a 58 anni mi ritrovo a fare questa esperienza legata alla guerra in Ucraina e quindi stiamo cercando di renderci utili e di dare un appoggio e un aiuto a queste persone rifugiate che arrivano dall'Ucraina. Ce ne sono tantissimi, sono soprattutto giovani donne, giovani mamme che generalmente hanno due o tre figli e che sfortunatamente sono costretti a lasciare il loro paese. La gran parte di loro arrivano da sole, senza il marito, perché il marito generalmente rimane sul confine in quanto non possono entrare in Ungheria e non possono emigrare. Quindi attraversano a piedi il confine e poi alcune di loro vanno nei centri di raccolto che ci sono sul confine e poi vengono smistate. Noi abbiamo cercato di alloggiare alcune di queste famiglie. La prima ondata è stata la più fortunata, adesso c'è la seconda ondata e ce ne sono tantissimi. Noi abbiamo dato ospitalità a una bellissima, giovanissima famiglia con due bambini. Adesso stiamo aspettando un altro gruppo di tre donne, tre mamme con cinque figli che verranno alloggiati in uno dei nostri appartamenti. E poi anche casa nostra è aperta a molte di queste giovani mamme che decidono magari di stare uno o due giorni e poi continuare per altri paesi europei. Nella chiacchierata che abbiamo fatto, una cosa che mi ha colpito. L'esperienza del terremoto in Friuli, il volontariato, il post-terremoto, la solidarietà. E mi dicevi che queste cose hanno lasciato il segno anche qui a Burda Test. in te naturalmente ti hanno fatto scattare questa molla di solidarietà. Ma vorremmo sentire dalla tua voce anche le cose che più ti hanno impressionato in queste due settimane. Beh, sicuramente la mia esperienza di il terremoto e del volontariato che ci hanno aiutato nel 1976 mi ha in un certo senso formato molto. E quindi noi a livello di Friulano a Budapest con altri anche amici italiani e qui ci siamo dati da fare e stiamo cercando di darci da fare. Quello che è impressionante è vedere il coraggio delle donne. Le donne, se ti capiterà di andare a visitare la stazione Keleti, lì vedrai che ci sono tantissime di queste donne che hanno veramente con i bambini e vedi che sono coraggiose, che sostengono i loro figli e che sono molto attive. E poi soprattutto queste famiglie che non hanno lasciato i loro animali domestici, quindi viaggiano molto spesso con cani, con i gatti e in un certo senso questo ti dà il senso che l'amore e la passione per la famiglia allargata, intendendo anche gli animali che non sono stati abbandonati a se stessi. Torniamo in regione ma con un tema connesso alla situazione di guerra, quello relativo ai consumi energetici. Politica energetica regionale cercasi, è il titolo infatti di un incontro organizzato a Udine dal gruppo consigliare regionale di patto per l'autonomia. Il capogruppo Massimo Moretuzzo invita la giunta regionale a individuare strumenti economico-finanziari e aiuti alle aziende che installano il fotovoltaico. Si è parlato di energia, sulle risorse che vanno ricercate direttamente sul territorio. In un incontro che si è svolto in Sala Pasolini, in regione a Udine, organizzato da patto per l'autonomia con noi il capogruppo in consiglio regionale Massimo Moretuzzo. Vi avete presentato in più occasioni alla regione delle proposte, soprattutto per quanto riguarda interventi direttamente sui capannoni delle aziende ed è per il fotovoltaico, quindi avere un fondo da parte della regione, un sostegno per poter intervenire da soli. Sì, noi crediamo che in una fase storica in cui le risorse a disposizione della regione, delle regioni in generale, del fluo di Venezia Giulia in particolare, sono cospicue, quindi sono stati fatti investimenti importanti, sono state messe a disposizione del bilancio regionale risorse importanti, crediamo sia importante investire per cercare di rendere il nostro territorio, le nostre imprese, le nostre famiglie quanto più autonome possibile dal punto di vista della sostenibilità energetica. La cronaca di questi giorni ci dice chiaramente che è un tema emergenziale, leggiamo di imprese che mettono i dipendenti in cassa integrazione perché non possono sostenere i costi dell'energia, ecco questo è inaccettabile. Noi in questi anni, quindi non da ieri, abbiamo proposto più volte di dare dei contributi alle imprese per riuscire a installare delle fonti di produzione rinnovabili, in particolare i fotovoltaici sui capannoni, sulle aree dismesse, sulle aree degradate, per riuscire a raggiungere questo obiettivo dell'autonomia energetica, puntualmente queste proposte sono state bocciate. Ecco, la cronaca di oggi ci dice che invece la regione autonoma, Friuli Venezia Giulia, avrebbe dovuto fare la sua parte, avrebbe dovuto mettere le imprese nelle condizioni di investire in questa direzione, non è stato fatto, oggi ne paghiamo le conseguenze. Crediamo non sia più rinviabile un piano energetico regionale veramente innovativo che vada in questa direzione e che metta le risorse dove servono. Quindi voi, in sostanza, puntate sul fotovoltaico, ma a suo tempo avrete puntato anche sullo sfruttamento dei corsi d'acqua che non sono naturali. Sì, noi diciamo che, ad esempio, una delle proposte che avevamo fatto e che sono state anche il caso bucciate, era quello di finanziare i consorzi di bonifica per fare uno studio di quali possono essere i salti dentro i corsi d'acqua non naturali per installare delle centraline che hanno un impatto ambientale nullo e che potrebbero aiutare. Anche in quel caso la proposta è stata bocciata, non sono stati fatti investimenti significativi in quella direzione e invece vediamo che le risorse vengono messe da tutt'altra parte, impianti sciistici a bassa quota, a 1200 metri, vediamo municipi finanziati in qualche valle sperduta della Carnia per 5 milioni di euro, vediamo il bonus bellezza per gli immobili, vediamo investimenti che incentivano addirittura il consumo di suolo in un settore come quello dell'edilizia che tutto avrebbe bisogno oggi meno che di incentivi in aggiunta a quelli statali. Ed è tutto per quest'ultimo appuntamento settimanale con A voi la linea che torna lunedì alle 12.45, grazie per averci seguito e buon pomeriggio, arrivederci.